La cittadinanza non chiede altro che la semiperiferia e la periferia venga curata come il centro. Bari è una grande città, abbiamo avuto un vero cittadino barese, di famiglia barese, che ha saputo dei suoi momenti in cui è stato sindaco a Bellini di questa città. Quando stava lui, usufruendo delle leggi europee e riuscita a fare di un ghetto che avevamo a Bari, dove era pericoloso entrare, ne ha fatto un quartiere meraviglioso in cui veramente da tutta Italia vengono a vedere la nostra bella Bari Vecchia. E questo lo dobbiamo a chi con sangue barese ha saputo dimostrare sia negli avi che nella presenza quello che veramente noi cittadini baresi siamo, il fulcro di quella che è l'Italia, perché noi rappresentiamo la forza dell'Italia e se è vero che l'Europa è un corpo unito e l'Italia è una giusta gamba, noi siamo nel tallone dell'Italia e mandiamo avanti tutta quella che è un'economia fatta di sensi, di doveri verso le nostre famiglie. Noi manteniamo ancora lo stato tradizionalista delle nostre famiglie, è questo che noi imponiamo. E infatti voi vedete Bari Vecchio che oggi vanno i giovani, è diventato qualcosa di bello mentre abbiamo avuto quattro anni di scempio. L'ultimo la pista ciclabile, ma quando è mai non si è vissuto in bicicletta? Hanno distrutto il parcheggio di 300 macchine lamentandosi tutti i commercianti del posto che non potevano parcheggiare perché hanno allargato i marciapiedi e noi abbiamo bisogno di parcheggi. Molte sono le cose che si potrebbero dire, ma chi ben comprende con il nostro bene amato Simeone lui sa benissimo come operare e come ha già operato per il futuro e il benessere di tutti i cittadini. Viva! Viva!